Mi chiamo Vincenzo Di Giulio, sono capo clinica della medicina interna all'ospedale di Locarno da gennaio 2022. Ho iniziato la mia carriera da medico nel 2008, ho fatto un mese di stage come assistente di cura. Successivamente durante gli anni di studio ho passato 5 mesi come candidato medico nei diversi reparti medicina interna, chirurgia e ginecologia. Appena diplomato mi sono venuto a lavorare come medico assistente, inizialmente per due anni in medicina interna, successivamente un anno in pronto soccorso presso il reparto di chirurgia. Di seguito sono andato due anni a Lugano e sono tornato appunto da gennaio 2022 come capo clinica in medicina interna. Aspiravo a venire a lavorare all'ospedale di Locarno perché già da visitatore o da paziente sentivo una sensazione di ambito familiare, comunque un ospedale non tanto grande in cui si veniva trattato quasi come uno di famiglia e devo dire che questi valori li ho trovati anche da dipendente in tutte le classi lavorative in cui sono stato coinvolto, quindi sia da stagiaire, da candidato medico, medico assistente e capo clinica. Trovo che questa qualità dell'ospedale di Locarno non sia mai scomparsa e anzi è sempre più valorizzata. Devo dire che non ho scelto un mestiere facile, anzi è pieno di complicazioni e di sacrifici, sin da subito si viene confrontati con un esame per numero chiuso e quindi impone già inizialmente uno stress, successivamente ci sono molti sacrifici da fare, stare distanti dalla famiglia, andare oltre cantone. Nel mio caso era per sei anni e adesso per quello che riguarda il master di medicina presso l'università della Svizzera italiana c'è la possibilità di stare più tempo in Ticino e il fatto di avere sicuramente un ambiente come l'ente ospedaliero cantonale favorisce e mantiene la motivazione a fare il medico. Ritengo essere un mio successo personale, quello di essere stato in grado di conciliare il fatto di essere papà mentre ero all'ultimo anno di medicina e essere riuscito comunque a diplomarmi e a perseguire l'attività di medico sicuramente favorito dall'ambiente che ho trovato all'interno dell'ospedale di Locarno. L'attività da capoclinica all'ospedale di Locarno è molto variata, possono esserci dei giorni in cui io sono il reparto per cui visito i pazienti insieme al medico assistente la mattina, andiamo alle formazioni sul mezzogiorno e discutiamo i casi particolari con i vari specialisti, oppure posso essere nell'area critica del pronto soccorso reperibile per le cure intense dove vengo confrontato con quelle che sono le urgenze. Le caratteristiche logistiche dell'ospedale di Locarno ci favoriscono anche per quello che è l'attività dell'area critica dove pronto soccorso e cure intense così come la radiologia sono tutte sullo stesso piano. Questo ci permette di affrontare le problematiche in modo più rapido. Qualora incontrassi delle difficoltà che vanno al di là delle mie competenze di medico internista so che posso sempre fare affidamento sui colleghi urgentisti. svolgiamo rapporti di radiologia, di neuroradiologia e facciamo formazioni intraospedalieri, la lettura del Journal Club. Tutte queste formazioni permettono nel percorso di medico di rimanere sempre aggiornati sulle novità che riguarda la medicina.